Marcia detta per la libertà in Polonia. Migliaia di persone, 50.000 secondo il Comune, hanno protestato nel centro di Varsavia alla manifestazione indetta dalla principale forza di opposizione polacca, il Partito Liberale Piattaforma Civica, contro il governo nazionalista e di destra nel segno di un paese libero ed europeo. La polizia ha ridotto il numero a 9.000, ma non si può negare che sia stata una manifestazione riuscita.